Buona giornata amici da Massimo Foghetti, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV Oggi. Oggi è giovedì 1 giugno 2023, cominciamo il mese dell'estate e vedremo come anche nel corso di questo mese volgeremo il nostro sguardo verso le concessioni balneari. Ma ancora diamo un'occhiata ai giornali partendo come sempre dall'almanacco del giorno. E qui vediamo il santo di oggi, è San Giustino, ovvero Giustiniano, qual era il suo nome completo nel secondo secolo. Era un filosofo, si era fatto cristiano perché aveva capito che la sua filosofia, l'essenza della felicità che lui cercava nella filosofia, combaciava con la verità del Vangelo. E quindi si era fatto cristiano. Morì però sotto la persecuzione attivata dal prefetto di Roma. Lui forse era un romano che era nato poi in Palestina e fu dapprima flagellato, poi decapitato, così come accadeva appunto ai cittadini romani che non si soggettavano all'imperatore. Ed ora diamo un'occhiata anche alle previsioni del tempo. Abbiamo una situazione in prevalenza stabile, il tempo è solleggiato, fatta eccezione per i settori appenninici con rovesci e temporali sparsi. I venti sono moderati sulle coste da nord e nord-ovest, mentre nell'interno da est-nord-este. Le temperature uscillano tra i 15 e i 25 gradi, abbiamo 10 gradi di escursione termica, il mare non è mosso, il mare è calmo. Ed ora apriamo il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo un articolo, anzi un'intera pagina dedicata alla cronaca. Deruba e picchia la madre per l'eroina, lei lo denuncia per cercare di salvarlo. Davanti al giudice è comparso un 26enne fanese, la donna invitata a testimoniare, decadono alcune accuse. In realtà questa è una madre coraggio, perché ci vuole coraggio a denunciare il proprio figlio. Ma le vessazioni a cui era costretta questa donna hanno consigliato che non era più il caso di sopportarle. E quindi la donna si è rivolta alla magistratura, ha denunciato il proprio figlio, il quale tossicodipendente ne aveva fatte veramente di tutti i colori per avere i soldi per acquistare la droga. Ebbene, anche il resto del Carlino riporta questa notizia. Vediamo come la riporta, poi ve la farò vedere. Adesso qui non la trovo un attimo, ma intanto restiamo sul Corriere Adriatico, perché soffermarsi un attimo su questa storia. È la storia di un ragazzo pronto a rapinare la madre per avere i soldi per la droga. Ma anche, dicevo, di una mamma a coraggio che ha denunciato il figlio per poterlo salvare da quel circolo vizioso, una spirale fatta di eroina e di violenza. Ieri c'è stata l'udienza preliminare per il 26enne fanese, accusato di tentata rapina, maltrattamenti in famiglia, lesioni, violenza. Veramente la lista è piuttosto lunga. Tutto si è consumato all'interno delle mura domestiche, quando il giovane avrebbe sottoposto la madre a continue vessazioni, a minacce, addirittura anche aveva alzato le mani per avere i soldi, per acquistare la droga. Ti ammazzo, le diceva con espressioni ancora più violente, ancora più significative, le lanciava contro superletteli, tanto che in un momento d'ira aveva anche danneggiato la porta di casa e il cellulare della madre. Insomma, veramente ne aveva fatte di tutti i colori. Il giovane imputato, anche di tentata rapina, pronto a un recupero di recupero, pronto a un percorso di recupero in comunità. Si spera appunto che riesca a uscire da questo tunnel della droga che l'aveva costretto a fare questi reati. Aggredisce la ex aletto con il nuovo fidanzato. E la seconda notizia di cronaca che pubblica in prima pagina, oggi il Corriere Adriatico. Dopo averli visti insieme al pub, sale sul balcone e fa irruzione in camera. Ovviamente non sopportava la nuova relazione che la sua ex aveva imbastito con un nuovo fidanzato. Acceso, preso da uno scatto d'ira, aveva aggredito quest'ultimo proprio in camera da letto. Ed ora passiamo alla politica. Passiamo alla politica perché le conseguenze di quanto si è verificato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, quando si è bocciata la variante di Centinarola proposta dalla Giunta, per una divisione interna al Partito Democratico, ovviamente ha suscitato dei riflessi, ha provocato dei riflessi. Il centrodestra seri si dimetta. L'ha detto tutto il centrodestra, sia Fratelli d'Italia che la Lega e poi anche i partiti che non sono rappresentati nel Consiglio Comunale, come l'Udici e come Forza Italia. Il sindaco è senza maggioranza, almeno lo è stato in questo caso, sulla variante promessa in campagna elettorale. Una campagna, una promessa che aveva fatto appunto il sindaco al momento in cui si presentava per essere eletti, però non gliel'ha fatta ad approvarla perché parte del Partito Democratico ha detto di no. Fratelli d'Italia ora batta un colpo, ha replicato Loretta Manocchi, che è la segretaria di questo partito. Ebbene, il giorno dopo, la bocciatura della variante di Centinarola al piano regolatore generale, le forze di opposizione reclamano le dimissioni di Massimo Seri. La maggioranza, a causa delle divisioni del Partito Democratico, ma non solo, appare infatti del tutto scollata. Il sindaco tragga le conseguenze, probabilmente non accadrà nulla, potrebbe anche accadere questo. Ormai siamo agli sgoccioli di questa tornata amministrativa, si supera questo incidente di percorso, qualcuno lo definisce anche così, e poi la mano ripasserà agli elettori il prossimo anno, quando si dovrà eleggere la nuova maggioranza. Le opposizioni chiedono che si trovano i fondi per le nuove classi. Adesso sono possibili 16-20 appartamenti su quella superficie di terra, dove avrebbe dovuto realizzarsi l'ampliamento della scuola elementare di Centinarola. Ampliamento che per il momento è svanito. E i bambini, sia di Centinarola che anche in parte di Rosciano, dovranno continuare a disperdersi in altre scuole del circondario, perché tutti non è possibile contenerli nella scuola Raffaello Sanzio di Centinarola. Ebbene, è una situazione piuttosto incresciosa quella che si è verificata a Centinarola, dove buona parte del quartiere è ammareggiato per quanto è avvenuto. E oggi inizia anche il Brodetto Fest, il Festival del Brodetto. L'appuntamento per l'inaugurazione è alle 18.30 al Lido, sul Lungomare Simonetti, dove è eletto il palco centrale. Ebbene, alle 18.30 ci sarà il saluto degli amministratori, poi si procederà subito con le attività, con le manifestazioni del Festival. Abbiamo un cooking show già a primo impatto, e al Palabrodetto sarà Giuseppe Mancino, alle ore 20. Giuseppe Mancino è uno chef stellato del ristorante Il Piccolo Principe di Viareggio, detentore di due stelle rilasciate da Michelin, il quale elabora un piatto a base della ricciola di fondale, con salsa di caciucco, bietole e finocchi. E poi alle 21.30 il talk show con Roberto Giacobbo, il conduttore, notissimo conduttore di Freedom, una delle trasmissioni televisive più seguite, perché parla di misteri, di curiosità, di archeologia, d'arte e di storia. Insomma, un tempo è venuto anche a Fano a dedicare una puntata alla Basilica di Vitruvio, e ora Roberto Giacobbo sarà sul palco centrale del Brodetto Fest a parlare un po' di cibo, ma anche di storia e poi di tutto quello che lui sa fare come grande affabolatore. Per la città dei bambini, i complimenti dei francesi, la delegazione di Lione, che è venuta in visita a Fano, in occasione della città da giocare, che si è svolta sabato scorso, quando Viale Gramsci è stato interrotto al traffico ed è stato dato ai bambini perché vi potessero giocare impunemente, con grande sicurezza, appunto, sulla careggiata. Delegazione di Lione, ospite del Comune. Ed ora diamo un'occhiata invece a questo articolo di fondopagina, pubblicato nella pagina della Val Metauro, ma che riguarda squisitamente Fano. Ebbene, con grande anticipo, quest'anno è stato presentato il manifesto del Carnevale del 2024 ed è stato presentato in una cornice molto ampia che dovrebbe avere una grande risonanza, ovvero addirittura al Parlamento Europeo di Bruxelles, lanciato a Bruxelles il Carnevale del 2024. E qui vediamo un'immagine. Vediamo un'immagine del Voulon che esce dal manifesto correndo e sembra che voglia uscire proprio per venire incontro agli spettatori che saranno presenti al Carnevale. C'è stata una delegazione fanese che è stata ospite dell'europarlamentare Mussolini e che li ha appunto invitati al Parlamento Europeo. Una delegazione che era presieduta dalla Presidente della Carnevalesca e poi c'erano con lei la Presidente Maria Flora Gian Marioli, c'erano anche i Vice Presidenti Stefano Mirisola e Saul Salucci e poi c'era anche l'Assessore al Turismo Etienne Lucarelli. Sono stati nell'occasione proiettati due video, una sulla città, le sue bellezze, gli eventi principali e le caratteristiche più tipiche, l'altra sulla storia del Carnevale. Ovviamente una bella promozione per questa manifestazione che si svolgerà, ormai è un po' lontana, comunque a febbraio prossimo. Ed ora passiamo a Marotta. A Marotta si rivendica il ritardo nello smaltimento dei mobili degli alluvionati. Il portavoce del Comitato di Via Ferrari segnala il problema igienico che potrebbe accentuarsi con il caldo. È tornato però, possiamo dire, il sereno. Ma il bel tempo non ha portato via tutti i disagi per gli allagamenti che si erano registrati a Marotta Nord la mattina del 16 maggio scorso. Gli esponenti del Comitato degli alluvionati e i cittadini che risiedono in Via Ferrari, una delle vie più colpite, lamentano ritardi nello smaltimento dei mobili e degli oggetti di casa che si erano così coperti, intrisi di fango, di melma che era stata portata dall'alluvione. Nonostante le precauzioni adottate per proteggere garage e scantinati. Da più di 30 anni si attende che il Comune, che una volta era anche competente, il Comune di Fano, credo, perché Via Ferrari potrebbe rientrare negli spazi che una volta occupava anche il Comune di Fano. Da più di 30 anni si attende l'intervento sulle fogne, il Comune deve ore fare presto. Questo è quanto riguarda l'appello lanciato dai residenti. Per quanto riguarda Senigallia, invece il Corriere Adriatico della Edizione della provincia di Pesaro Urbino oggi propone il rinnovo delle cariche che si è svolto dalla Banca di Credito Cooperativo. Vernarecci è il presidente, confermato al vertice del Consiglio di Amministrazione. Vogliamo consolidare la presenza sul territorio, ha dichiarato il nuovo presidente. Vediamo anche qualche notizia che riguarda Pesaro, sempre sul Corriere Adriatico. Vediamo come si parli di sanità. Ecco il nuovo ospedale di Muraglia, ma Muraglia sembra che perda i pezzi, perderà psichiatria. L'azienda sanitaria territoriale è in cerca di altre sedi. È stato pubblicato un bando per trovare strutture in affitto dove trasferire i posti letto di psichiatria e gli ambulatori. Si smembra così la cittadella della salute mentale. I locali serviranno per sei anni. Ebbene, diamo un'occhiata per così fare il sunto di questo articolo alla tabella che il giornale propone. E quindi in sintesi vediamo i punti più importanti. I lavori per il nuovo ospedale di Pesaro dovranno essere appaltati entro il dicembre del 2024. Finiti nel 2027, ma ancora la Regione però non ha affidato i progetti. Qui si procede molto molto a rilento. A Muraglia le comunità e gli ambulatori psichiatrici dovranno traslocare entro il 30 settembre del 2024. Si cercano quindi nuove sedi. L'azienda ha aperto un bando per affittare locali dove trasferire i posti letto della salute mentale. Le proposte dovranno giungere entro il 25 luglio. Poi la trattativa sui costi del contratto verrà attivata per sei anni. Restano a Pesaro sicuramente la struttura residenziale riabilitativa. Il CSM va invece fuori città per quanto riguarda le due comunità protette e la RSA Tomaseillo. Quindi anche questa dovrà traslocare. Giriamo la pagina, ci occupiamo di altre notizie e vediamo una notizia che riguarda la cronaca. Cede il tronco della quercia che potava un cinquantenne è travolto e muore schiacciato. L'infortunio si è verificato sulle pendici del Colle San Bartolo e sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere appunto il corpo che era sotto la grande quercia che gli era rotolata addosso. Muore schiacciato da un grosso tronco di quercia che stava potando. Un tragico incidente nella tarda mattina di ieri in un terreno di proprietà lungo un sentiero sterrato sulla panoramica di San Bartolo che arriva nel tratto terminale di Baia Flaminia in prossimità dell'ex casa dell'ente Parco. La vittima è un cinquantotenne si tratta di Mario Zaffini era andato in pensione da poco e si stava dedicando un po' alle passioni sue all'aria aperta a godere appunto di questa primavera. Purtroppo quanto gli è accaduto questo incidente gli è stato fatale. Vediamo anche la pagina di Urbino il Partito Democratico sconfessa il progetto di Marche Multiservizi Ricci non è mai stato informato la segretaria Fulvi la segretaria provinciale del PD difende la zona biologica dell'entroterra contro un sviluppo basato sui rifiuti e ovviamente si parla di discarica si parla di discarica questa grande discarica di riceci sconfessata anche a livello provinciale dal Partito Democratico la linea operativa di Marche Multiservizi viene rigettata il PD è nettamente contrario alla discarica di riceci nel comune di Petriano ha dichiarato la segretaria del partito Rosetta Fulvi quindi non condividiamo l'ubicazione né la dimensione e tantomeno la costituzione di una società privata ovvero l'Aurora per la sua gestione quindi c'è un grosso contrasto di carattere politico vediamo ora la pagina del resto del Carlino che apre proprio con la presentazione del manifesto del Carnevale a Bruxelles la Mussolini madrina del Carnevale e il Volon conquista il palco europeo presentato al Parlamento di Bruxelles il manifesto d'autore filmato da Andrea Giomaro per il 2024 Andrea Giomaro è un artista molto molto particolare è un artista degli effetti speciali ha lavorato tantissimo per il cinema ha fatto delle creature eccezionali ha mostrato il suo valore in film di autore ed ora ha fatto questo manifesto che è veramente sprizza vivacità sprizza vigore sprizza movimento è firmato dunque ancora si procede con la firma di un autore importante per quanto riguarda i manifesti del Carnevale di Fano la cui collezione veramente mostra dei nomi alquanto prestigiosi e poi vediamo ancora il pasticcio Centinarola che viene evidenziato anche dal resto del Carlino il quale dice che ne all'interno del Partito Democratico volano gli stracci ed oggi è Enrico Nicolelli che insorge Enrico Nicolelli ha votato a favore della variante di Centinarola il quale però insorge dicendo che di questo passo il PD perderà senz'altro le votazioni le elezioni del 2024 per la rielezione del Sindaco e del Consiglio Comunale mostrandosi in questa veste veramente sfilacciata dove la capogruppo addirittura vota in maniera contraria al suo gruppo insomma ci sono stati due voti decisivi a parte quello del capogruppo di Incomune Carla Luzzi che poi ha votato contro la variante c'è anche una dichiarazione di Enrico Fumante anche lui favorevole alla variante è evidente ha detto la sintonia tra Minardi e Mascalin ma così ci rimettono i cittadini soprattutto i cittadini di Centinarola è evidente la sintonia tra Minardi e Mascarin nonostante la loro diversa origine politica la decisione di martedì danneggia soprattutto i cittadini di Centinarola privati di una scuola e di una palestra a giugno il via alla pulizia dei binari della tratta ferroviaria Fano Urbino esulta l'Udc Stefano Pollegioni che aveva fatto una battaglia per indurre le ferrovie a fare pulizia per quanto riguarda i binari la battaglia vinta l'incontro si è avvenuto in prefettura e quindi tra l'amministrazione comunale di Fano e le ferrovie dello Stato si è raggiunto un accordo per tenere pulita questa stratta vediamo ancora incidenti stradali questo si è verificato a Coglio al Metauro a Villanova in modo particolare sbanda e finisce contro un albero una ragazza soccorsa in eliambulanza aveva anzi scusate 32 anni è fanese e stava facendo delle consegne l'incidente si è verificato alle 6.45 la donna ha perso il controllo del suo furgone un Opel Combo andando ad impattare violentemente contro un grosso albero sul ciglio della strada ad Urbino teatro stadio e centro partono i cantieri ebbene lo stato di salute del bilancio permette al sindaco Gambini di realizzare parecchie opere nei prossimi mesi avremo talmente tanti cantieri ha dichiarato che purtroppo ci saranno anche dei disagi perché quando uno fa dei lavori ovviamente procura dei problemi al vicino ma comunque sono problemi temporani via Giro dei Torricini è un lavoro già in fase avanzata realizzato grazie ai fondi Unesco con un cofinanziamento comunale dovrebbe finire a settembre e prevede l'irifacimento sia della parte parallela a via Salvalai metà a Piola e metà a Scalette il tratto più dissestato e poi vediamo che tutti i mattoni in buon stato verranno riutilizzati per dare un aspetto storico alla via e poi si interverrà anche via Barocci dove il cantiere è fermo da dieci anni e quindi verrà verrà riattivato a luglio dovrebbe partire anche la realizzazione del camminamento che collegherà la via del parco della resistenza ovvero il prato della fortezza e poi ci sono anche altri interventi che riguardano la zona tra gli oratori di San Giuseppe e San Giovanni dove c'è un muro che verrà bucato giriamo ancora la pagina siamo a Borgo Pace l'antica Palaligna sarà ricollocata nella chiesa parrocchiale è stratta di una madonna la madonna della spugna che prende il nome dall'antica chiesetta che era sul luogo siamo in conclusione concludiamo con l'addio a Fabio Pedini avvenuto a Sant'Angelo L'Invado dove i funerali si svolgono per quanto riguarda questo personaggio scomparso a 68 anni è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani grazie per l'ascolto a risentirci grazie per la visione